Tudor Pelagos, il capolavoro subacqueo di Tudor. Il Pelagos è una collezione di orologi Tudor, ispirata al mondo della vela e del mare. Il Pelagos è nato nel 2012, come un progetto completamente originale, che ha richiesto anni di ricerca e sviluppo. Il Pelagos presenta una cassa in titanio, resistente fino a 500 metri di profondità, una lunetta girevole monodirezionale, una valvola di fuoriuscita dell'elio, un quadrante con una visibilità eccezionale grazie alle classiche sfere Snowflake del marchio, una lunetta in ceramica e un bracciale con un innovativo sistema di regolazione. Il tutto abbinato ad un movimento di manifattura, certificato COSC, con data e riserva di carica 70 ore. Il Pelagos è un orologio subacqueo senza compromessi, che offre prestazioni impeccabili in ogni condizione. Il suo nome richiama l'habitat pelagico degli oceani, luogo di profondità e mistero. Il Pelagos è il frutto della tradizione orologera di Tudor, che ha iniziato a produrre orologi subacquei nel 1954, con il modello Tudor Submariner. Il Pelagos ha ereditato lo spirito e il design del Tudor Submariner, ma lo ha migliorato con materiali e tecnologie all'avanguardia. Il Pelagos è un orologio che combina lusso e tecnologia, eleganza e sportività. Il Pelagos ha una lunetta realizzata in ceramica, un materiale innovativo che offre una elevata resistenza ai graffi e ai raggi UV e mantiene inalterato il colore nel tempo. La lunetta ha una scala graduata 60 minuti, con un indice triangolare a ore 12, dotato di un inserto luminoso Chromalight, che emette una luce blu in condizioni di scarsa luminosità. La lunetta può essere di colore nero o blu, a seconda della versione, e si abbina perfettamente al quadrante. Il quadrante può essere di colore nero o blu, due colori che riflettono le tonalità del mare. Il quadrante è firmato Tudor, con il logo a ore 12, e riporta la scritta Pelagos a ore 6, con la profondità massima di impermeabilità espressa in piedi e in metri. In alcune versioni il Pelagos ha anche una finestrella per la data a ore 3, con una lente di ingrandimento che ne facilita la lettura. Il bracciale può essere in titanio, con maglie massicce e chiusura di sicurezza, o in gomma, con una fibbia in titanio. Dal 2010, Tudor ha partecipato al Grand Prix d'Orlogerie de Geneve, GPHG, il più prestigioso concorso internazionale dedicato all'orologeria di alta gamma. In questi anni, Tudor ha vinto per ben 9 volte un premio in diverse categorie, dimostrando la sua capacità di creare orologi di altissimo livello, con un carattere proprio e distintivo. Tra i modelli premiati, spicca appunto il Pelagos, che ha vinto per ben 3 volte il premio nella categoria dedicata agli orologi sportivi.